Oggi una bella insalata di riso, così ce la portiamo al mare. Bella, fresca e golosa. Andiamola a preparare insieme. Per prima cosa mettiamo l'acqua nella pentola e la mettiamo sul fuoco. Nel frattempo ci andiamo a preparare tutti gli ingredienti per fare il nostro riso. Allora, ci occorrono 80 grammi di prosciutto cotto da tagliare all'issalelle, una bustrina di wuster, mi raccomando ai wuster vanno bolliti, una simmental grande, un pomodoro medio, delle olive senza nocciolo e le tagliamo a rondelle, la mozzarella, 30 grammi di scagliette di parmigiano, 150 grammi di maionese e sono 3 scatolette di tonno. L'acqua bolla e verso il riso al suo interno, io ne uso 300 grammi e sto cucinando per 3 persone, quindi mi regolano 100 grammi a testa. Ora che il riso è cotto lo faccio sgocciolare nel colapasto, lo faccio raffreddare, mi raccomando il riso deve essere bello freddo freddo. Ecco qua, ora che il riso è bello raffreddato non ci resta che condirlo, mettendolo prima in una bella zippiera di vetro e aggiungendo la maionese. E ci diamo una bella mescolata e facciamo aderire per bene la maionese vicino al riso. Aggiungiamo il tonno e amalgamiamo e facciamo attaccare anche il tonno al riso. Ora versiamo la simmental e amalgamiamo di nuovo. Ora possiamo anche aggiungere tutti gli ingredienti, la mozzarella, il pomodoro, le olive, il prosciutto cotto, i wirstel bolliti. E ora diamo una bella mescolata, guardate che bella carrellata di colori, eh! Soltanto alla fine aggiungiamo le nostre scagliette di parmigiano. Ed ecco pronto il mio riso all'insalata. Io spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta, alla prossima! Alla fine lo sapete, vi lascio sempre tutti gli ingredienti iscritti. Alla fine! Grazie.